Dobbiamo essere sereni, essere fermi, ho tanta fiducia ad Eusebio Di Francesco, ho fiducia di questa grande squadra, damogli un po' di tempo perché sono ragazzi, sono giovani, sono forti, sono belli e sai ci serve soltanto una bella vittoria per ripartire, mancano 35 partite, non drammatizziamo, siamo la Sampdoria e siamo fortissimi, vinciamo siamo tutti bravi, forti e veri, perdiamo siamo tutti quanti delle persone che non siamo capaci, cominciamo a accusare, ci accusiamo l'uno e l'altro, io credo che questa sia veramente una cosa da non fare perché siamo tutti bravi ad andare a correre sul cavallo bianco e cavalcare nei mari meravigliosi, ma se c'è un cavallo nero cavalchiamolo uguale perché siamo una squadra e quando si perde bisogna avere unità, forza, coraggio e stare sereni. Grazie